Difendiamo i cittadini dall'interruzione della prescrizione del reato dopo la pronuncia della sentenza resa dal giudice di primo grado da un carico pendente senza fine che non ci consente di ricostruirci una vita dalla dilatazione dei tempi processuali perché occorrono semmai più giudici, più risorse e più spazi per velocizzare il corso della giustizia Difendiamo i cittadini perché anche le vittime del reato per un tempo indefinito non potranno voltare pagina Difendiamo i cittadini con la corretta informazione Il rinvio dell'udienza su richiesta dell'avvocato non produce effetti sulla prescrizione Difendiamoci tutti!